Alle battute finali l'iter burocratico riguardante la Ragusa Catania. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, infatti, si riunirà venerdì per esprimere il parere definitivo sull'infrastruttura. Il parere, secondo quanto assicurano, sarà quasi certamente positivo. La Regione, tra l'altro, ha assicurato un finanziamento di oltre 360 milioni di euro. La Ragusa Catania costerà 815 milioni di euro rispetto al miliardo e 300 di milioni previsto in quanto sarà ridotto il percorso e non si realizzeranno alcuni viadotti e svincoli che non sono stati ritenuti necessari.